iscriviti al canale Questa è l'area di VELONA. Qui ciò che c'è vicino, i miei VELONA, i miei fan club, e ciò che c'è vicino, e vi voglio vedere un evento. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! I'm atentato in the event. I'm going to go. In fact, in VELONA, c'è un'azienda di rizzeri di rizzeri. C'è un'azienda di rizzeri. L'azienda di rizzeri di rizzeri. L'azienda di rizzeri di rizzeri di rizzeri. L'azienda di rizzeri di rizzeri di rizzeri di rizzeri di rizzeri. Un soldi al VELONA, che diventano sull'azienda ritei di rizzeri. I rizzeri di rizzeri di rizzeri di rizzeri di rizzeri di rizzeri di rizzeri. non ti pare? tu non ti pare? tu sei street ehi 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 Questo è l'evento molto grande, ma tutti i nostri amici e 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 tutti i nostri amici. Grazie per aver montato la macchina qui. Grazie a voi, è stato un piacere per me. Piacere avere qua a Rondi. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri amici.